Grazie all'innalzamento della soglia Isee si allarga la platea dei beneficiari della Carta Famiglia della Regione. Sono potenzialmente 5.000 le famiglie in più rispetto alle attuali 37.000 che potranno beneficiare delle misure previste, fra cui dote famiglie e contributi per la previdenza complementare. La novità sulle modifiche al regolamento è stata approvata ieri in via preliminare da parte della Giunta regionale su proposta dell'assessore Alessia Rosolen e sarà ora sottoposta al parere del Consiglio delle Autonomie Locali. I testi sono stati adeguati alla nuova normativa introdotta con la legge di stabilità, che ha innalzato la soglia Isee da 30 a 35.000 euro per accedere a Carta Famiglia e ai contributi a essa collegati. Ai titolari della Carta la misura finanziata dalla Regione assicura l'abbattimento delle rette per gli asili nido, il diritto allo studio, contributi per l'attività educativa extrascolastica, aiuti per sostenere i nuclei familiari con figli a carico residenti da almeno 24 mesi in Friuli Venezia Giulia. È stato inoltre modificato il termine di presentazione delle domande di dote famiglia, spostandolo dal 1 gennaio al 1 aprile di ogni anno, a seguito di una specifica richiesta che era arrivata dai comuni. Con la nuova misura di incremento dell'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, la Regione dunque ha ampliato la platea di circa 5.000 nuclei che a partire da quest'anno potranno beneficiare degli aiuti. Oltre al reddito, i requisiti per accedere alla nuova misura sono almeno un figlio a carico di genitori separati o divorziati che convivono con il bambino, di genitore adottivo, di persona affidataria o di madri inserite ed in percorsi personalizzati di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza.